in 100 tribuncento ragazzi ecco qua questa bici da strada non proprio da corsa da strada sette rapporti ho montato i copertoni tubolari anziché quelli tassellati per renderla più leggera ma in realtà è molto simile a prima è nulla ho fatto una quarantina di chilometri bici ideata per anche per il cicloturismo in alluminio 11 kg è nulla sto facendo dei buoni allenamenti in questi giorni non ho gli agganci ai ai pedali con le scarpe normali con i pedali normali appunto è nulla molto molto comoda questa bici un'ottima bici ciao ragazzi